In casa, Baris è in una discussione seria con Savash e Aliriza riguardo agli eventi accaduti al locale. Era consapevole che Nesrin non fosse chi pretendeva di essere, ma non avrebbe mai immaginato che fosse in realtà la sorella scomparsa di Zeynep. Aliriza, cercando di essere ottimista, incoraggia suo nipote dicendo che Zeynep e la sua famiglia supereranno questo ostacolo. Sottolinea l'importanza del ritrovamento di Gulbin e la speranza di una riunificazione familiare. Baris, fedele nel suo sostegno a Zeynep, è determinato ad aiutarla in ogni modo possibile. È anche in attesa di scoprire se Tekin abbia fatto dichiarazioni che coinvolgano Gulbin nelle indagini, dato che c'è la possibilità che lei possa essere arrestata per il tentativo di truffa ai danni di Nermin e Zeynep. Anche Gemile è preoccupata per le vicende di Zeynep e Sakine. Parlando con Nu, esprime il suo desiderio di stare al loro fianco e offrire il suo aiuto. Ricorda quanto loro, Nu e la sua famiglia, abbiano fatto per lei e si sente pronta a ricambiare con tutto il sostegno necessario. Nu è euforico, la Gemile che conosceva è tornata, e ora sogna un futuro felice insieme a lei. Intanto, Sakine e le altre si trovano ancora nel salotto. Zeynep tenta di ravvivare lo spirito di sua sorella e di sua madre raccontando aneddoti della loro infanzia, ma le sue storie non sembrano sortire l'effetto desiderato. Gulbin si sente ancora esclusa, come se avesse perso gran parte della vita familiare, e Sakine è oppressa dal senso di colpa per non essere stata capace di proteggere i suoi figli. Anche se Gulbin pensa di andarsene, Zeynep riesce a convincerla a passare la notte a casa loro. Prima di continuare, abbiamo una piccola richiesta. Se non l'hai già fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Questo semplice gesto non ha alcun costo per te, ma è fondamentale per noi. Ti permetterà di essere sempre aggiornata sui nostri ultimi video e ci darai un grande supporto. Grazie di cuore. Sakine è ancora profondamente turbata, non solo per il ritrovamento inaspettato di sua figlia, ma anche per il rancore che Gulbin conserva nei suoi confronti. Nermin, ugualmente sconvolta, riflette in solitudine fino a quando non viene avvicinata da Emine, che ha notato il suo stato di tristezza. Nermin confida a Emine le ragioni della sua malinconia. Ekrem, il suo ex marito, l'ha ingannata e truffata più volte. Si domanda se questo sia il suo destino o, più precisamente, se le persone la percepiscano come una figura vulnerabile e ingenua, facile bersaglio di inganni. Ricorda anche l'atteggiamento seducente di Tekin verso di lei, cosa che in un certo modo le era piaciuta. Si interroga su quando si è diventata così esposta e imprudente. Emine interviene per rincuorarla, non è corretto che Nermin si assuma la colpa per il comportamento indegno altrui. Se Ekrem ha cercato di ingannarla, ciò riflette solo la sua debolezza e codardia. Per Emine, Nermin è una delle persone più degne e sagge che conosca. E non accetta che si sottovaluti così duramente. Ancora una volta, la solidarietà femminile si rivela fonte di forza reciproca e determinazione a superare le difficoltà. Giunta la sera, Zeynep conduce Gulbin nella sua stanza per la notte. Zeynep è cauta ma speranzosa che insieme a sua sorella riusciranno a risolvere i loro problemi. Dopo essersi augurate la buona notte, tuttavia, è evidente il disagio di Gulbin, che fatica a prendere sonno. Baris, intanto, riceve notizie incoraggianti. Tekin non ha implicato Gulbin nelle indagini. Il che significa che la ragazza non è sotto indagine né ricercata dalla polizia. La mattina seguente, Sakine si sveglia incredibilmente felice. Decide di concentrarsi sugli aspetti positivi della situazione. Sua figlia Gulbin è tornata e farà tutto il possibile per renderla felice. In questo spirito, prepara una colazione abbondante con tutti i cibi preferiti di Gulbin. Aliriza, Savas e Baris arrivano a casa, dove vengono accolti da Eminem. Poco dopo, si unisce a loro una Zeynep visibilmente agitata. Rivela di aver ricevuto un messaggio da Gulbin, la quale ha lasciato la casa all'alba per tornare in Germania, dove ha trascorso la sua vita dopo la fuga da Istanbul. Zeynep e Baris si precipitano in auto verso l'aeroporto, mentre Eminem e Savas cercano di individuare i voli mattutini per la Germania, nella speranza di intercettare Gulbin prima della sua partenza. Le loro supposizioni sono corrette. Gulbin sta effettivamente dirigendosi all'aeroporto in taxi. Zeynep tenta ripetutamente di chiamarla, ma Gulbin ignora le sue chiamate. Le due sorelle si scambiano solo messaggi. Zeynep implora Gulbin di non partire, di non allontanarsi nuovamente come ha fatto in passato. Tuttavia, per Gulbin, tornare in Germania sembra l'unica via percorribile. È consapevole delle difficoltà di fiducia che la sua azione di truffa ha generato in Zeynep e crede di non avere un posto nella sua famiglia. A casa, Sakine si rende conto dell'assenza di Gulbin e Zeynep. Gli altri, non volendo mentire, le rivelano delicatamente che Gulbin è scappata e che Zeynep e Varys sono sulle sue tracce. Sakine è sopraffatta dal dolore. Ha appena ritrovato sua figlia e ora l'ha persa di nuovo. Colta da un forte dispiacere, sviene ma viene prontamente soccorsa da tutti. Zeynep è disperata e non sa come convincere Gulbin che si sbaglia, che lei l'ha già perdonata e che l'importante è essersi ritrovate. Gulbin, in preda alle lacrime e allo sconforto, vorrebbe credere a Zeynep ma rimane decisa a partire. Emine e Savas, nel frattempo, individuano il probabile volo di Gulbin per la Germania e informano Varys. Mentre sono in viaggio verso l'aeroporto, Zeynep nota Gulbin in un taxi vicino a loro. Dopo diverse manovre, Varys riesce a far fermare il taxi e Zeynep finalmente parla con la sorella. Le ricorda che appartengono alla stessa famiglia, condividendo la stessa madre e lo stesso padre, e che entrambe sono cresciute senza una sorella. Non ha senso continuare a negarsi affetto e presenza reciproca. Varys interviene per tranquillizzare Gulbin, rassicurandola che non ci sono provvedimenti legali contro di lei. Tekin non ha rivelato il suo coinvolgimento e la polizia non la sta cercando. Inoltre, Varys garantisce che, anche se dovesse sorgere qualche problema legale, lui e Zeynep faranno tutto il possibile per proteggerla. Sebbene ancora preoccupata, Gulbin decide di dare fiducia a Zeynep e si impegna a credere nella possibilità di una soluzione positiva. Decide quindi di salire in macchina con Varys e Zeynep e tornare a casa insieme a loro. Varys comunica la notizia a Nermin, che immediatamente informa Sakine. Tutti in casa tirano un sospiro di sollievo e attendono con ansia l'arrivo di Varys, Zeynep e Gulbin, trovando conforto nel sostegno reciproco e nell'abbraccio di Sakine. Intanto, Aliriza coglie l'opportunità per riaffermare il suo amore e la sua felicità a Sultan. Sono sposati da appena un giorno e, a causa degli eventi recenti, non hanno ancora avuto modo di celebrare adeguatamente o di parlare dei loro piani futuri. Aliriza propone che Sultan e Demine si trasferiscano a vivere con lui, una volta che le tensioni si saranno placate. Sultan, commossa dalla proposta, gli promette che ne parleranno a tempo debito. Nermin, ispirata dal clima di rinnovamento, fa una proposta ad Aliriza. Ha deciso di cedere le sue quote del ristorante a Sakine. Ritiene che sia giusto lasciare qualcosa in gestione a Sakine, che ha due figlie, per garantirle una vita tranquilla e sicura. Aliriza, socio di Nermin nel ristorante, accoglie con entusiasmo la sua iniziativa, rivelando che aveva anche lui l'intenzione di lasciare le sue quote a Sultan come regalo di nozze. In questo clima di decisioni positive e soddisfacenti, tutti riescono a trovare momenti di tranquillità e sollievo in una giornata che era iniziata nel modo più difficile e turbolento. All'arrivo di Zeynep, Baris e Gulbin a casa, un'emotiva Sakine accoglie Gulbin con un abbraccio. Quest'ultima appare ora più rilassata e aperta nei confronti della madre. Il sollievo è palpabile tra tutti i presenti, che accolgono Gulbin con calore, trovando un attimo di serenità nell'euforia generale. Emine, sentendosi sopraffatta dagli eventi recenti, confida a Savas il suo desiderio di una pausa. Savas coglie l'occasione per trascorrere del tempo a tu per tu con lei e la convince a uscire insieme, fingendo di avere del lavoro da sbrigare. Anche se gli altri, soprattutto Zeynep e Baris, sembrano intuire la crescente vicinanza tra loro, i due giovani portano avanti il loro piano. Sakine si dedica a viziare Gulbin, e tra le risate generali, tutti in casa ritrovano una certa pace. Savas porta Emine in un ristorante sul mare, di proprietà di un'amica della sua defunta madre. Questa donna speciale ha un legame profondo con Savas e parla di lui con grande affetto, considerandolo come uno dei ragazzi migliori che conosca, nonostante sia legata anche a Baris. Quando la proprietaria del ristorante si allontana, Emine, visibilmente commossa, ringrazia Savas. Da quando si conoscono, ha imparato molto da lui e condivide l'opinione della proprietaria. Savas occupa un posto speciale anche nel suo cuore. Emine confessa di non aver mai conosciuto qualcuno come lui, così intelligente, sensibile e generoso. La sua fiducia in Savas è talmente profonda che sa che, in caso di difficoltà o decisioni importanti, lui sarebbe la prima persona a cui si rivolgerebbe per consigli e supporto. Tuttavia, la loro intimità viene interrotta quando la proprietaria del ristorante ritorna e accidentalmente fa cadere un bicchiere. La preoccupazione di Emine per Savas, espressa con una certa urgenza, viene interpretata male da lui. Savas, deluso e ferito, non riesce a esprimere i sentimenti che stava per rivelare a Emine, rompendo l'atmosfera di complicità e serenità che si era creata. La serata, che sembrava essere un momento speciale per entrambi, si conclude in modo inaspettatamente teso e malinconico. Zeynep avvicina Gulbin, notando che la sorella non sembra ancora completamente a suo agio e appare preoccupata. Gulbin le confida di sentirsi smarrita. Per tutta la vita è stata sola e ora non sa quale sia la sua direzione, chi sia veramente o quali siano i suoi sogni. Zeynep, a sua volta, le rivela di avere un sogno da tempo e suggerisce che possa diventare anche il sogno di Gulbin. Essendo entrambe cresciute in un contesto familiare difficile, Zeynep propone di aiutare ragazze che si trovano in situazioni simili. Zeynep ha da tempo l'idea di creare un'associazione per sostenere giovani ragazze con difficoltà familiari e sociali. Quest'idea sembra accendere una scintilla in Gulbin, che per la prima volta da quando è tornata in famiglia si mostra entusiasta. Le due sorelle, ora unite da un obiettivo comune, decidono di fondare l'associazione insieme, rafforzando il loro legame. Il giorno delle nozze di Zeynep e Bari s'arriva. La coppia, radiosa, si scambia le promesse nuziali davanti agli invitati, in un'atmosfera carica di emozioni. Nu ed Emine agiscono come testimoni e, una volta conclusa la cerimonia, tutti si uniscono nel ballo, ammirando i novelli sposi. La felicità che si respira è unica, condivisa da tutti, da Sakine a Nermin, da Emine a Savas. Un mese dopo, ci troviamo a casa di Nu e Gemile, che si stanno preparando per un'importante novità. Gemile tiene tra le mani quello che sembra essere un test di gravidanza e, scoprendo il risultato positivo, la gioia è immensa. Lei e Nu aspettano un figlio. Condividono la notizia, esultando per il loro futuro luminoso. Intanto, Sultan si è trasferita definitivamente a casa di Aliriza, dove vive anche Savas, ma non Emine. Emine, infatti, ha scelto di vivere da sola in un appartamento in affitto, decisione che Sultan non condivide del tutto. Tuttavia, Aliriza sembra intuire il legame non dichiarato tra Savas ed Emine. Savas confessa allo zio che la scelta di Emine di vivere da sola deriva dalla loro situazione sentimentale ancora indefinita. Quando Emine arriva, è inevitabile che i due giovani si avvicinino per parlare. Tra loro c'è chiaramente un sentimento non ancora espresso. Un legame che sembra destinato a evolversi nel tempo. Nella casa di Nermin, mentre Sakine e Gulbin si stanno preparando, Nermin coglie l'occasione per svelare a Sakine i suoi piani. Desidera cedere la sua quota del ristorante a Sakine affinché possa gestirlo insieme a Sultan. Sakine inizialmente cerca di declinare l'offerta, ma Nermin la incoraggia a prendersi il tempo per riflettere. Con la prospettiva di essere affiancata da Sultan, Gemileno, Sakine sembra aperta all'idea di imbarcarsi in questa nuova avventura. Le due donne, che in passato avevano avuto divergenze e competizioni, ora sembrano più unite che mai, come due amiche pronte a sostenersi a vicenda. Nella nuova casa di Baris e Zeynep, quest'ultima è piuttosto agitata per l'imminente evento a cui dovranno partecipare. Baris sempre supportivo, la rassicura e la incoraggia. Prima di partire, Baris propone a Zeynep di pensare all'idea di allargare la famiglia, un progetto che entrambi accolgono con gioia e felicità. Tutti arrivano all'evento. Gemileno e Nuh sono accompagnati da Benaldi e la piccola Mujgan. Nuh coglie l'occasione per annunciare la gravidanza di Gemileno, suscitando congratulazioni e gioia tra gli ospiti. Mentre si accomodano, tutti sembrano in attesa di Zeynep, che sembra dover tenere un discorso. Emine approfitta del momento per avvicinarsi a Savas. Inizialmente lo invita a visitarla nella sua nuova abitazione, ma poi l'invito si trasforma in una proposta di convivenza. Savas, chiaramente felice, accetta con entusiasmo. È evidente che i due desiderano vivere insieme. Infine, Zeynep si avvicina al palco per il suo discorso. Con grande emozione, annuncia la creazione di un'associazione di supporto alle donne. Nel suo discorso, Zeynep tocca temi profondi come la violenza, l'ingiustizia e l'umiliazione. Esprimendo la speranza che l'associazione possa aiutare le donne a liberarsi dalle catene invisibili della paura e del condizionamento. Il suo obiettivo è interrompere il ciclo di violenza e permettere alle donne in difficoltà di trovare la forza di cambiare il proprio destino. Con questa iniziativa, Zeynep aspira a influenzare positivamente non solo la vita attuale, ma anche quella delle future generazioni, dando loro la speranza di un futuro migliore. Terminano qui queste nostre anticipazioni e anche, l'ultima puntata di My Home My Destiny. Se volete ricevere nuovi video di altre serie, scrivete nei commenti quali sono le vostre serie preferite e cercheremo di farvi dei nuovi video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie